Credo che i partigiani non di colore rosso sono stati cortesemente messi da parte quasi immediatamente. E il torpedone che ci portava come ufficiale, saremmo stati una trentina più o meno, il torpedone che ci portava da Gallarate a Milano, non ha fatto soste, si è infilato nella caserma del Vincenzo Monte, come si chiamava la caserma? La caserma della cavalleria comunque, in qualche modo, che era diventata una base partigiana e ci hanno messo lì, alla faccia dell'accordo preso ci hanno spogliato praticamente di tutto, subito. Gli ufficiali sono stati portati a Milano e sono quelli soggetti al trattamento peggiore, perché a questo punto aveva prevalso la fazione della Brigata Garibaldi e delle Brigate Matteotti, quindi quelle di matrice comunista e socialista, che in qualche modo perseguiva degli obiettivi diversi, cioè quella di instaurare un regime diciamo bolscevico in Italia.